ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato allo jema flygraf flygraf flieger ossia un flieger un orologio dedicato all'aviazione di quelli che esistevano durante la seconda guerra mondiale il nome flieger è propriamente tedesco quindi un orologio francese con un nomignolo tedesco che sta ad indicare proprio la mission dell'orologio secondo me poi è proprio un pilot uno di quegli orologi tipo il longin spirit ad esempio quelli con i numeri arabi a corollario che tanto mi piacciono è per questo che l'ho preso perché l'ho visto in vetrina e ho detto questo qua può essere uno di quegli orologi papabili per me ma anche per il mio pubblico per quelli che guardano i miei video un orologio che mi è piaciuto appena l'ho visto e che ho deciso di portarlo quindi me lo ha messo a disposizione il buon giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è concessionaria del marchio offre un trattamento di favore a voi che state guardando e a me mi mette a disposizione gli orologi che desidero in questo caso l'ho preso erano tre le colorazioni attenzione nera verde militare e blu e chiaramente ho preso quella blu che è un pochino più nei miei gusti con la verde un po meno quella nera sarebbe anche il massimo però sempre neri quindi ho preso blu che è carino blu anche nero ma anche verde è bello perché il verde militare nonostante non sia un colore prettamente aviatorio è pur sempre militare che è lo spirito di questo orologio un pilot ricordiamo detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo rolex yacht master 40 mm con quadrante blu e calibro 32 35 ormai lo conoscete è un pochino che lo sto indossando mi devo togliere la voglia di indossarlo di utilizzarlo di vedermelo al polso come fosse una sorta di gioiello perché noi ci garba questo orologio ci garba ora giriamo la camera diamo uno sguardello a questo bellissimo orologio simpatico bellissimo diciamo simpatico non esageriamo sempre quei termini e poi ci ritroviamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze andando a denunciare i risultati ottenuti dalle misurazioni reali diametro cassa 40 mm spessore 12.9 ingombro trasversale al polso 45.8 e interasseanza da 20 mm dati che non risultano essere eccessivamente sorprendenti né in bene né in male ricordiamoci che stiamo parlando di un pilot e che quindi l'ampiezza del quadrante deve essere una delle prerogative fondamentali e qui nonostante 40 mm sembrino pochi lo sia ottenuto grazie alla quasi totale assenza della lunetta che concede in questo modo più spazio al dial ma andiamo per ordine per avere un rapporto corretto di proporzione occorre che lo spessore sia commisurato al diametro e in questo caso abbiamo un lato cassa visibile che misura appena 9.4 mm il resto dello spessore è imputabile al vetro zaffero a doppia cupola che chiaramente essendo trasparente non va ad appesantire la vista di profilo al di là delle dimensioni ciò che caratterizza particolarmente l'intero orologio è il materiale cassa lunetta fondello e corona sono realizzate in titanio grado 2 40 per cento più leggero rispetto all'acciaio ad occhio nudo si evince dal particolare colore scuro tipica tonalità di questa lega che conferisce all'intera testa un aspetto austero e serioso ad accentuare queste sensazioni contribuisce la generale satinatura opaca che pervade ogni singola superficie disponibile non vi sono biselli lucidati ogni piano si incontra gli altri formando angoli acuti privi di dolci raccordi tutto quanto in pieno stile marziale come ci si aspetterebbe da un orologio militare l'unica concessione al futile estro la troviamo sulla faccia della corona di carica laddove il logo dell'aviazione francese viene riportato in rilievo e lucido un vezzo piacevole che non intacca lo spirito della corona stessa in quanto appare essere ben sovradimensionata è in grado di supportare efficacemente l'utilizzo indossando dei guanti occorre poi dire che pur essendo a pressione riesce a garantire una impermeabilità dichiarata di ben 100 metri un dato rassicurante che ci permette l'utilizzo spensierato anche al di fuori del nostro jet personale merito delle efficienti guarnizioni alla corona e del fondello avvitato integralmente alla cassa anche quest'ultimo prosegue il concetto di sovrietà fin qui visto grazie la sua opacità e al fatto che il luogo del poco consono fondello trasparente troviamo un basso rilievo raffigurante lo stesso logo visto sulla corona tutto ciò impedisce di osservare il movimento che altri non è che lo iema 2000 seconda generazione dei calibri in house realizzati dalla casa un meccanismo è messo sul mercato nel 2011 che viene poi anche declinato nella versione gmt 29 rubini 28 1800 alternanze orarie e 42 ore di riserva di carica viene regolato e testato su ben quattro posizioni per poter garantire uno scarto entro i meno 10 e più 10 secondi al giorno ma ruotiamo l'orologio e diamo uno sguardo al simpatico quadrante più che simpatico direi severo in quanto non lascia percepire alcuno sprazzo di giovialità terrena ruota tutto attorno alla leggibilità e alla funzionalità in pratica un orologio francese travestito da tedesco il fondo quadrante è palesemente opaco e il suo fine ultimo è quello di non riflettere la luce in alcun modo vi è una leggerissima finitura degradé che volge al nero verso il bordo ma talmente ridotta che solamente una piccola porzione risulta più scura il nero è poi accentuato dall'effetto ombreggiatura che scaturisce dal rio sollevato rispetto al piano quadrante stesso una tridimensionalità poco evidente ad occhio nudo che fa il paio con quel tocco di classe rappresentato dal triangolo ad ore 12 qui l'effetto quadrante sandwich è particolarmente tangibile il marker è realizzato tagliando il dial e mettendo in evidenza il piano sottostante tra l'altro pigmentato con un differente tipo di superluminova un sistema propedeutico ad unire la classicità di un contrassegno utilizzato sin dagli anni 40 al vezzo di un qualcosa di originale poco visto ma in generale tutto l'insieme a godere di un'eccellente leggibilità i numeri arabi a corollario sono leggermente sporgenti e privi di qualsivoglia cornice lucida sono realizzati integralmente in superluminova per evitare riflessi metallici ed aumentare il grado di contrasto anche le sfere ad aga appaiono perfettamente distinguibili sagoma netta e pulita in contrasto rispetto al fondo sottostante in generale si tratta di un quadrante che svolge alla perfezione il proprio compito ben leggibile equilibrato e serioso da segnalare il dataria 2 e 6 che divide orizzontalmente il quadrante e che presenta il fondo ruota in tono con il colore del quadrante in tutte le versioni nulla da recepire a riguardo della luminescenza in assenza di luce è possibile individuare subito la posizione delle sfere rispetto ai numeri e al triangolo non so se dalla camera è percepibile ma sfere e triangolo presentano una tonalità luminescente differente rispetto ai numeri non rimane che parlare del cinturino in cordura in realtà la parte interna è foderata in morbida pelle chiara mentre la superficie esterna è realizzata in una trama di tessuto tecnico particolarmente resistente riesce a riprendere abbastanza fedelmente il punto di colore del quadrante o perlomeno quello della parte esterna più scura in generale la qualità è buona con cuciture solide e fuori ardiglione rinforzati anche se soffre della tipica sindrome da cinturino nuovo ossia la rigidità caratteristica alquanto fastidiosa ma verso la quale ci si pone con indulgenza in quanto figlia della mancanza di tempo trascorso al polso ultimo elemento da prendere in considerazione la fibbia anch'essa realizzata in titanio opaco vede una sagomatura spigolosa e sfaccettata in pieno stile militare niente fronzoli possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali eccoci di ritorno un pilot dedicato alla marina francese no all'armede l'air come si pronuncierebbe ma è meglio dire alla marina francese così non mi arrampico sugli specchi ora punti deboli oggettivi non ne ho trovati ragazzi ogni tanto capita io non è che devo vendervi l'orologio quindi non non ho motivo per barare però non ne ho trovati di punti deboli oggettivi vogliamo metterci ma la coronavite siamo abituati anche a vivere senza coronavite quindi io ve lo dico la coronavite ecco la coronavite avrei voluto la coronavite così qualcosa ho detto perché sennò non ce n'è sono tutti i punti positivi i punti deboli secondo me sono poi soggettivi perché ad esempio a me il titanio non è che mi fa impazzire no quindi se non vi piacciono gli orologi in titanio non è da prendere in considerazione anche se devo dire che il suo peso non è inesistente non è una piuma al polso un pochino si sente quindi tutto sommato mi va a perdere quel discorso del della troppa leggerezza di non sentirlo al polso perché non si sente pesante cioè non è leggerissimo poi il titanio tutto spazzolato come deve essere tutto opaco no anche qui non ci si può attaccare ma il titanio però lo si può lucidare si può fare miselli diventa una roba di pregio di cura e no perché qua non ce n'è bisogno un orologio militare e come tale deve essere tutto opaco tutto spazzolato e ben venga questa finitura generale così sobria e austera leggibilità gigantesca inutile dirlo c'è la data ad ore 6 quindi non si può nemmeno dire ma se c'aveva la data il 3 spezzato come magari avviene nello spirit ecco questo qua diciamo che può essere paragonato allo spirit con le giuste paragoni perché lo spirit è un'altra roba è un mio orologino è un'altra roba sto qua uno o due passi due passi indietro però lo si può paragonare come stile a quello lì un pilot con i numeri arabi tutti a corollario che mi piacciono tanto i numeri arabi ottima leggibilità ottima luminescenza anche se non come quella dello spirit con la corona grande come lo spirit ora sto facendo questo parallelismo che non è richiesto ma mi viene perché la tipologia è quella e però senza punti deboli dai non c'è dai punti deboli non è che c'è qualcosa che non va che non che non può andare a parte il cinturino che è rigido ma cosa ce ne frega perché io se lo prendessi addirittura non credo utilizzerei questo cinturino qua bello cordura in pelle all'interno sì ma lo sapete con un bel nato o con un verde militare o con un cuoione di quello con le impunture me lo godrei di più credo tra l'altro 100 metri di impermeabilità è un pilot cioè dedicato all'aviazione con 100 metri di impermeabilità se cadete in piscina anche no d'estate o col paracadute mentre vi lanciate dall'aereo in fiamme col paracadute cadete in mare e lui si salva no va bene io ragazzi tutte le cosine ve le ho dette magari il calibro IEMA 2000 sì sempre il solito discorso fa trito e retrito calibro in house però le decorazioni sono leggermente un pochino pacchiane che quasi lo fanno sembrare cinese ma in realtà poi da tutte le fonti che abbiamo e abbiamo visto anche video ci sono i macchinari all'interno della fabbrica morte quindi non c'è da dubitare però sono quelle cosine che vanno un po sottolineate adesso tutto a posto dai tutto a posto non so più cosa dire orologio promosso 990 euro poi con lo sconto del buon giacomo 990 lo sai che diventano un pochino meno quindi c'è un bel orologio per 990 euro va bene basta io ho detto tutte le caratteristiche tecniche e linguistiche e più di così non posso fare a me è piaciucchiato a parte magari ecco sempre a livello personale potrei dire che le anse così piccole che fuoriescono dalla cassa come propaggini mi piacciono meno rispetto a delle anse che sono più strutturate alla cassa più tondeggianti come ad esempio qua nello yacht master non nello spiriti no pochino più presenti ecco a livello personale poi sono a livello personale perché piace piace alla gente che piace ragazzi io mi sembra di aver detto tutto l'orologio non è promosso come fa a non essere promosso non gli ho trovato nemmeno un difettino e quindi vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao